Carissime, sono Ade Gabri del Baule della Nonna. Il mio canale è su YouTube. Questo è un tutorial, che ho fatto da poco, dove rinnoviamo il nostro vecchio orso. L'abbiamo vestito con delle stoffe di riciclo, guardate che meraviglia, e tutti gli avanzi di merletto. Inoltre abbiamo realizzato un simpaticissimo cappello con i fiori, e così dal vecchio Teddy è diventata una bellissima mamma orsa da regalare alle vostre bimbe. Ma anche per noi, perché io mi sono divertita tantissimo a creare questo abitino. E allora iscrivetevi, perché da me è tutto gratuito.